La notizia era nell'area già da qualche settimana, oggi è arrivata l'ufficialità. Il vicepresidente vicario del Consiglio regionale, Giorgio De Matteis, si candida a sindaco dell'Aquila, alla guida di un progetto aperto che si chiama appunto l'Aquila Città Aperta. Credo sia il modo migliore per affrontare un tema di grande responsabilità per l'intera città. Credo sia necessario recuperare attraverso un abbassamento dei livelli di conflittualità esasperati che in questo momento hanno creato grandi difficoltà nella nostra città, un maggior livello di credibilità e di serenità. Di credibilità perché ad oggi è necessario che questa città recuperi nei confronti dell'intera regione, dell'intero paese, una credibilità che questa conflittualità esasperata ha notevolmente minato. E questo credo ci porterà ad avere una città che sia in grado di programmare, di progettare il proprio futuro con il coinvolgimento attraverso appunto una città aperta, aperta al confronto al proprio interno, aperta al confronto all'esterno, verso il resto della regione e il resto del paese, tanto da poter essere effettivamente la guida del proprio processo di crescita, di rinnovamento di una nuova città dell'Aquila per il futuro. E questo è l'obiettivo più grande. Naturalmente tutto questo non fa altro che portare a corresponsabilità tutto quello che in questa città emerge come forza positiva, che emerga dai partiti, che emerga dalle forze civiche, che emerga dalle associazioni imprenditoriali o le associazioni culturali, tutto quello insomma che in questa città ha idee e che può fornire energie positive. Questo è l'obiettivo, mettere insieme queste energie positive per un comune progetto che è quello della rinascita della nostra città. Quindi un progetto aperto ai partiti ma non limitato ai partiti. Aperto ai partiti come aperto a tutto il resto della società, naturalmente. Come dicevo prima, anche le aggregazioni di carattere civico, anche le associazioni di categoria, cioè tutto quello che può fornire questa energia positiva di cui abbiamo notevolmente bisogno. È necessario che questo diventi un progetto unico per la città. Non possiamo avere dieci obiettivi diversi. Credo sia inutile. Le divisioni, i contrasti, le conflittualità esasperate degli ultimi tempi purtroppo hanno dato una immagine assolutamente negativa. Vanno messe da parte. Bisogna lavorare per trovare ciò che unisce e non ciò che divide e questo è il compito delle forze, non soltanto di carattere politico, perché altrimenti rientreremo in quegli schematismi che credo in questa città non facciano sicuramente breccia, che riguardano le coalizioni, che riguardano gli steccati, che riguardano le fazioni o gli schieramenti. Dobbiamo andare oltre questo sistema. Naturalmente non è semplice. Se lo fosse stato a quest'ora avremmo già risolto le nostre difficoltà, sapendo che i nostri problemi devono essere risolti a partire dalla nostra capacità di affrontarli. Grazie. 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 Grazie.